Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Uno dei ragazzi della scuola di Maria De Filippi, diventato famoso proprio grazie all'esperienza del talent show di Canale 5, ha appena diffuso una notizia stupenda che sicuramente renderà felice la madrina della scuola Di che cosa si tratta? Oggi è un famoso cantante ma qualche anno fa era solo un giovanissimo allievo esordiente che ancora non aveva raggiunto il successo Scopriamo di chi si tratta.Attraverso un annuncio diffuso su social l'ex studente della categoria cantante ha comunicato una lieta novità Chissà come reagirà adesso la conduttrice Maria De Filippi.Amici, Maria De Filippi ha appena ricevuto una bellissima notizia Uno dei ragazzi che ha frequentato Amici nel 2015 ha appena diffuso una notizia a dir poco meravigliosa Si tratta di Antonio Stasch Fjordispino, il chitarrista e cantante dei The Colors, il gruppo formato da Antonio insieme a Daniele Mona ed Alex Fjordispino La band Pop Rock ha partecipato e vinto la quattordicesima edizione del noto programma di Maria De Filippi e nel corso del talent show di Canale 5 al programma ha pubblicato il brano Everytime, che ha scalato le classifiche degli ascolti delle maggiori piattaforme di streaming Da allora il gruppo e in particolare il front-bank della band, Stasch, ha raggiunto un posto di primo piano in panorama italiano ed internazionale della musica pop Da allora è passato tanto tempo e la vita dell'ex allievo di Amici è cambiata e adesso sembra essere pronto a un'altra grande novità Diverse ore fa l'artista ha deciso di pubblicare suoi suoi profili social un'immagine molto suggestiva, scattata in bianco e nero che anticipa un evento speciale Ecco il lieto annuncio.Lo scatto condiviso da Stasch e dalla compagna mostra una chitarra tra le cui corde appare l'immagine di un'ecografia Questo vuol dire che il cantante sarà presto papà bis.Stasch infatti è già il tenero papà della piccola Grace nata alla fine del 2020 Lui e la sua dolce metà, l'influencer Giulia Belmonte, adesso aspettano con trepidante attesa l'arrivo del secondo o della secondogenita, ancora non è dato saperlo Intanto però l'artista non è riuscito a trattenere la commozione e la gioia di questa notizia e accanto alla foto pubblicata su Instagram ha scritto E poi arrivi tu.A moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo A ingrandire gli spazi dell'anima.A creare nuove melodie.Già ti sentiamo.E non vediamo l'ora di abbracciarti.Grazie per questo altro miracolo Sicuramente Maria che lo ha visto davvero crescere dal punto di vista artistico e umano sarà molto felice Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao